Oggi iniziamo un giro invece sulla Litorania Nord e partiamo proprio da Porto Suna che per qualche anno è stato anche un gioiello di questa città, una spiaggetta ritrovata in pieno centro un posto bellissimo dove i tanti turisti ospite Bed & Bexorst in pieno centro venivano la mattina a prendere il sole Oggi siamo al 26 di giugno e stiamo vedendo che si stanno togliendo le alghe diciamo che non a stagione iniziata o inoltrata ma insomma a momenti arriviamo a fine stagione ritardi che sono inspiegabili perché se si sono trovati soldi per fare questi lavori si potevano trovare un mese fa ma questo è lo stato anche quello che vediamo qui alle mie spalle attuale e soprattutto con uno stato di abbandono che oltre le alghe che ha portato durante l'inverno il mare c'è anche un muretto che abbiamo visto ci hanno segnalato che è crollato, ci sono alberi divelti, insomma stato di abbandono di luogo che dovrebbe essere un gioiellino in pieno centro della città ma vogliamo ascoltare qualcuno degli abitanti del centro storico che questo luogo lo vive quotidianamente qua era diventato un giardino che i turisti venivano proprio e sbalordivano invece qua abbiamo futura, è pieno di tope, pieno di tope che qua sotto stamattina c'erano tre concludiamo qui questa tappa di oggi che è una prima parte che dedichiamo alla litoranea nord della città di Tramani ovvero nella ex piazza mercato del pesce, la piazza fantasma oggi recuperata al decoro da diversi anni ma indecorosamente le amministrazioni che si sono succedute in questi anni non hanno mai avuto un serio progetto di utilizzo di questo luogo ogni tanto vediamo delle fiere di paese ma nulla di più noi vogliamo sollecitare gli amministratori a mettere in moto un minimo di attenzione e far sì che questo possa diventare il vero salotto buono della città da qui ci si snoda percorso Vittorio Emanuele, via Garibaldi io mi immagino questo luogo dove ogni giorno potrebbero essere ospitate delle mostre da floricoltori, antiquariato, prodotti tipici della gastronomia, dell'artigianato quotidianamente e poi in questi locali che ci sono qui sotto ai portici si avrebbe potuto pensandoci per tempo affidarli a dei privati e fargli gestire un bar con dei tavolini qui in piazza ma chissà si aspetta evidentemente che arrivi il grande colpo di genia